E' iniziata la demolizione del nastro trasportatore che Enel utilizzava la Spezia per movimentare il carbone dal porto fino alla centrale termoelettrica Eugenio Montale, spenta definitivamente nell'autunno del 2021. La prova tangibile che il percorso di dismissione si sta concretizzando è il commento del sindaco della Spezia Peracchini. La nostra volontà è di portare avanti l'interlocuzione con Enel per valutare iniziative orientate alla riqualificazione dell'area e alla promozione di progetti per lo sviluppo sostenibile che vadano nell'interesse della cittadinanza, fermo restando che la proprietà è di Enel e che ogni decisione dovrà essere presa in accordo con loro. In questi giorni è arrivata la conferma della rinuncia da parte dell'azienda al progetto di installare un sito di produzione di idrogeno verde alimentato da un parco fotovoltaico per cui aveva vinto un bando da circa 14 milioni di euro del PNRR. La rinuncia ha scatenato le critiche dell'opposizione in consiglio comunale. Per Roberto Centi, capogruppo di Lealia Spezia, il protocollo siglato tra Comune ed Enel è solo aria fritta, non c'è un piano industriale ed un serio piano di sviluppo futuro dell'area. Per Centi, il sindaco Peracchini e la maggioranza hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza in questa vicenda. Una notizia ce l'abbiamo, l'idrogeno non si farà. Rincara così la dose il capodelegazione PD al Parlamento europeo Brando Benifei. Non sorprendono le dichiarazioni confuse e la richiesta di occultare documenti e notizie, prosegue. La giunta Peracchini ha stabilito che va bene così che l'azienda possa non assumere nessun vero impegno verso la città e che l'area sia lasciata nella più totale incertezza, pur essendo uno dei pochi asset di un possibile rilancio occupazionale del territorio. La polemica messa in piedi dalla sinistra sull'idrogeno verde, non ritenuta attualmente economicamente sostenibile dall'Enel, è solo strumentale e non tiene volutamente conto dell'importante cambiamento cui l'area sta andando incontro, ha replicato Peracchini. Non è infatti imponendo vincoli che si può costruire un dialogo e di certo si deve evitare di produrre l'effetto di disincentivare la proprietà a investire nel nostro territorio, come invece sembra voglia fare la sinistra con la sua politica del no ad ogni costo.